perché così ogni tanto partecipano le persone che mi conoscono nella realtà perché è bellissimo lavorare online, reclutare sconosciuti tra virgolette perché poi in realtà siamo diventati grandi amici con parecchi di voi però alcuni del mio paese sono ancora scettici e non sanno cosa sto combinando io sto facendo un lavoro che lo vedete mi piace da impazzire poi sapete come affronto qualsiasi situazione di vita io smile per di più se una cosa mi fa star bene ho una rete adesso con 150 persone circa era molto 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 più grande ma alcuni non hanno ben compreso come funziona il network marketing in generale o comunque questo, questo è di una semplicità pazzesca perché ti registri e fai acquisti online come se li stessi facendo su Amazon non sei obbligato a fare niente di diverso anche solo se ti vuoi comprare il tuo profumo e pagarlo ad un prezzo che è qualcosa di stratosferico per carità, se mi conosci personalmente vieni, ti faccio sniffare tutti i 60 campioncini e troviamo quello perfetto per te perché è impossibile non trovarne uno adatto per il resto abbiamo prodotti che vanno bene per tutto vabbè volevo parlare solo delle simbio poi ogni volta che tocchiamo il tasto prodotti io prendo la tangenziale finisco in autostrada e non so guidare Massimo che fa il vigile a ceriale io non ho mai detto che non so guidare sono bravissima e rispetto sempre il codice della strada sempre quindi vi invito veramente a mandarmi un messaggio in modo che io posso darvi la scheda tecnica di questo prodotto perché io non sono un medico e non mi voglio prendere nessun tipo di responsabilità ma quando hai per le mani un prodotto così pazzesco è impensabile non volerlo condividere con il mondo intero impensabile oddio no, brava leader no perché io volevo Ada in video con me perché sono impacciatissima l'altra volta c'era Deborah che mi faceva da spalla e mi sono divertita da impazzire grazie Ada aspetta vediamo che qua c'è una taggana amico vogliono che taggo me stessa nel mio altro profilo facebook è pazzesco va bene detto questo si chiama Essinbio io vi farei vedere ma non so come si gira aspetta un attimo e vi sto facendo vedere una cosa che l'oro in confronto non è nulla 16 ceppi probiotici avete presente quando prendete l'antibiotico e puntualmente vi viene mal di stomaco e quindi vi consigliano di prendere dei fermenti lattici ragazzi qua siamo oltre 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 di più va bene dai vi aspetto ho cambiato numero di cellulare lo dico questo a chi mi conosce quindi però il mio nuovo numero è postato praticamente ovunque scrivetemi su whatsapp se non volete usare messenger perché messenger so che ha tantissimi da fastidio whatsapp è acceso praticamente 24 ore al giorno 351-380-7932 spero di averlo detto giusto ma tanto è scritto ovunque ciao ragazzi